Ho ascoltato Francesco, Francesco stai tranquillo, questo è il tuo gruppo di regione che rappresenterò io e che sarà sempre vicino a te. Su questo non si scopre, ed è anzi l'importante crescita di un gruppo umano che ti vede oggi impegnato a livello nazionale e che vedrà piano piano, come ci avete vinto a fare, da tanti anni crescere anche a te tante persone, tanti politici, tanti ragazzi che piano piano ci saranno uomini sempre più importanti e che saranno al servizio come per lui benissimo da quei bisogni della nostra splendida regione e delle nostre splendide comunità. Un ringraziamento a tutti voi, oggi sono presenti un po' le prime figlie, i quadri, i sindaci, gli amministratori, i consigli ai comunali, gli amici di sempre di questa nostra componente, sempre a una riunione quasi da chiusura di campagna elettorale, in realtà è la riunione dei nostri amici più scritti, delle persone a noi più vicine, quelle che quotidianamente in un modo in un altro cerchiamo di intercettare e oggi abbiamo voluto riunire per l'inizio di questo discorso elettorale con degli scopi ben precisi. Primo quello appunto di non essere Renata Volverini, di fare questa chiacchierata odierna per cercare di stabilire le linee guida di quello che andremo a fare, per la distribuzione del materiale, quindi chi non lo ha fatto lo troverà l'inverso, vanno sulle cose pratiche perché purtroppo credo che oggi questo serva 50 giorni di lavoro, dobbiamo solo andare a cercare di prendere concentri in voto.